Benvenuto nel tuo negozio di riferimento per l'attrezzatura da padel, totalpadel.com. Con la spedizione gratuita da 29 euro, un servizio clienti interno veloce e un programma di racchette in prova, Total Padel offre un'ampia gamma di prodotti delle migliori marche a prezzi competitivi. Tutto questo con la stessa passione e professionalità che ci ha contraddistinto per più di 30 anni con Tennis Warehouse. Viene a trovarci oggi su totalpadel.com. Grazie.